Carola, chi è la corteggiatrice di Federico Nicotera Uomini e Donne, Età, Lavoro, Vita Privata, Instagram? Tutto pronto per una nuova, imperdibile puntata di Uomini e Donne. Anche quest'oggi Maria De Filippi a partire dalle 14.45 su Canale 5 è pronta a scaldare il cuore dei propri telespettatori. Questo pomeriggio al centro dello studio c'è il tronista Federico che è uscito in esterna con Carola. Come sarà andata tra i due? Siamo agli sgoccioli di questo trono. E Carola, così come la sua competitora Alice, sono in grande fibrillazione. Carola oggi è molto arrabbiata in puntata. Ma Federico potrebbe decidere di portare proprio lei in esterna. Al centro dello studio quest'oggi insieme al tronista Federico c'è Carola. La ragazza ha 21 anni e frequenta l'università. Appare molto schietta e determinata, riuscirà a conquistare Federico. I due sono usciti insieme e lei ha decisamente sorpreso il ragazzo, in sella ad una moto con abiti sportivi e ha messo subito in chiaro che non è certamente una donna che le manda a dire. La prima esterna tra Carola e Federico sembra sia andata abbastanza bene. Entrambi i ragazzi hanno dei caratteri forti. Decisi e Federico sembra apprezzare l'indole determinata di Carola, rispetto alla quale afferma che il fatto di non riuscire a leggerla mi incuriosisce. Come proseguirà la conoscenza tra i due? Federico e Carola Carpanelli sono usciti nuovamente in esterna, ma le cose tra i due non sembrano andare nel verso desiderato. Lui è sempre più convinto che lei, che è nata a Varese e studia scienze economiche e politiche, non sia interessata. Carola ha un profilo Instagram e con l'account at carolv24 vanta o tre uno, zero 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 followers. Federico, però, non sta conoscendo solo lei e continua a portare in esterna anche la rivale Alice, chi tra le due sarà la scelta? Grazie a tutti.